Il primo mini switch off si avvicina anche se posticipato di 5 giorni. Dal 20 ottobre infatti saranno 15 canali che inizieranno a trasmettere solo in MPEG 4, la nuova codifica che soppianterà l'attuale MPEG 2. 9 canali RAI e 6 Mediaset. In sostanza, chi possiede televisori non HD inizierà a vedere lo schermo nero, necessario per vedere tutto avere un televisore o un decoder in alta definizione HD, che andranno comunque risintonizzati. La scadenza arriva però con i due bonus TV ancora attivi, sia per TV sia per decoder. Il 20 ottobre quindi la RAI passerà a MPEG 4 i seguenti canali. RAI 4, RAI 5, RAI Movie, RAI Premium, RAI Gulp, RAI Yo-Yo, RAI Storia, RAI Sport più HD, RAI Scuola. In sostanza restano ancora in MPEG 2, RAI 1, RAI 2, RAI 3 e RAI News 24, che migreranno in nuova codifica probabilmente nei primi mesi del 2022. Anche tutti i canali di Telemolise e TV6 saranno ancora visibili in MPEG 2. Per quanto riguarda Mediaset saranno diffusi solo in MPEG 4 dal 20 ottobre, TG Com 24, Italia 2, Boeing Plus, Radio 105, R101 TV, Virgin Radio TV. Ancora nulla di certo per altre emittenti commerciali. È comunque utile verificare se il proprio televisore sia già pronto a ricevere i canali con nuova tecnologia. Per farlo bisogna solo sintonizzarsi sui canali 100 e 200 e verificare che compaia la scritta Test HEVC Main 10. In caso non si riceva è conveniente procurarsi a breve almeno un decoder DVB-T2 o acquistare TV compatibile. Per il satellite il primo ottobre passerà in MPEG 4 Italia 1. Rete 4 ha già fatto. Il primo gennaio 2022 sarà invece la volta di canale 5. Per la RAI si attende ancora. Per TVSAT comunque l'impatto dello spegnimento dell'MPEG 2 riguarda per lo più i decoder esterni. Infatti chi ha un TV con tuner SAT integrato e la cam con tutta probabilità ha già un apparecchio compatibile con MPEG 4. Su TVSAT inoltre non è previsto un ulteriore passaggio di standard. Chi vede oggi non dovrebbe avere altri problemi per anni.